Il bambino che vedete nella foto, Antonio, 11 anni, è morto in auto nel traffico tra le braccia impotenti della sua mamma. Stavano andando per l'ennesima volta in ospedale, soffriva di crisi respiratorie, ma tutte le volte i medici avevano detto che non aveva nulla. Solo dopo la morte si è visto che aveva un tumore di più di un chilo, pensate, tra cuore e polmoni. Non c'è possibilità di rassegnazione per la mamma, Ioana, che si trova qui con noi. Benvenuta, Ioana. Piacere. Adesso vediamo un'altra foto di Antonio, abbracciato stretto stretto a lei. Che bambino era? Antonio era il bambino più dolce del mondo. Era buono, non litigava, era amoroso, era socievole, parlava con tutti. Andavamo a fare spesa, lì si fermava a parlare con delle persone. Da quel che vediamo attraverso le foto, Ioana, sembrava un bambino sano, senza nessun problema. Sì, era sano. L'ho portato una volta al pronto soccorso quando aveva tre mesi. Ha avuto la febbre, penso, tre volte in undici anni. Antonio stava molto bene. Poi di improvviso ha cominciato ad avere dei problemi di respirazione, no? E lei l'ha portato in ospedale. Cosa è successo in ospedale? Cosa hanno fatto? In ospedale mi hanno detto che lui ha un laringospasmo e che dovevo fare dell'aerosol e del cortisone. Possiamo avere un bicchiere d'acqua, per favore, Giovanna? Mi piace, mi chiedo scusa. Non si preoccupi, stia tranquillo. Purtroppo mi hanno fatto fare questo trattamento, mi hanno fatto fare questo trattamento per quasi due mesi. E lui non ha mai migliorato. Anzi, peggiorava ogni volta. Lui mi chiedeva di dargli l'aria, che non poteva respirare. Dicevamo, dammi l'aria dalla bocca tua. Non riusciva a respirare. No. I medici a cui si rivolse non risolsero il problema. Non hanno proprio fatto nessun tipo di accertamento. Antonio continuava a stare male. Beva, beva pure, signora. Chiedo scusa. No, non si preoccupi. Beva pure, tranquillamente. Veramente sono due giorni che sto un po' così. Non si preoccupi. La capiamo e ha tutto il diritto di essere così. Quindi Antonio continuava a stare male. Lei lo ha portato cinque volte al pronto soccorso. È possibile che non gli abbiano mai fatto un esame? No. La terza volta, quando sono andata, lui stava sempre peggio. Le prime due volte sono state una presto all'altra. Sono andata oggi a mezzogiorno e la stessa notte, alle tre o quattro di notte, perché lui proprio non aveva l'aria. E mi hanno detto, signora, deve aspettare che faccia l'effetto, il trattamento, la cura che sta facendo. La terza volta, quando sono andata, l'hanno già passata due settimane e lui stava sempre peggio. Allora io gli ho detto, magari è un'allergia. Proviamo a fargli qualche test. Signora, non è assolutamente un'allergia. Mi hanno risposto. Mi hanno detto, ma scusi, lei come fa a saperlo? Ce lo guarda e capisce che non è un'allergia. Senza fare un esame. Mi hanno rimandato in un camerino per fare l'aerosol, sempre vicino a loro. Dopodiché mi hanno rimandato a casa con lo stesso trattamento. Con lo stesso trattamento. Le posso chiedere, Ioana, perché tornava sempre allo stesso ospedale? Se pensava che per suo figlio non stessero facendo abbastanza? Io non ho mai pensato che non facevano abbastanza. Io pensavo che veramente non era niente di grave. Io mi fidavo di quell'ospedale. Io ho due figli, Antonio e Alessandro, che è stato in cura del bambino Gesù per quasi 15 anni. Lui aveva un'artrite. Lui aveva un'artrite. Aveva 9 anni quando l'hanno scoperta. Dopodiché ha avuto anche un diabete. Mi fidavo, io mi fidavo. L'hanno curato tantissimo mio figlio. Quel giorno terribile, Ioana, nel quale Antonio le morì tra le braccia, lei lo stava portando... Al San Camilo. ...in un altro ospedale. Giusto? Voleva cambiare ospedale. Sì, volevo andare a fare il test aeregologico a San Camilo. Ero riuscita a prendere un appuntamento. E non siamo mai arrivati. La notte non aveva dormito per niente. Siamo stati tutta la notte abbracciati. Non poteva respirare. Non poteva stare sdraiato. Stavamo seduti sulla sedia. La mattina non l'ha mangiato. Siamo usciti per andare all'ospedale. E in macchina mi ha detto che non può respirare. E mi sono fermata. L'ho fatto scendere. Ha chiuso gli occhi e mi è caduto un braccio. Vieni, vieni, Valerio. Porta un bicchiere alla signora che ha bisogno ancora di acqua. Grazie, grazie. Mi dispiace. No, non si deve dispiacere. Non si preoccupa. Eravate a un certo punto bloccati nel traffico, no? Ioana. Per una manifestazione sportiva, credo. Era la Formula E. Che si svolgeva alle porte di Roma. Lei aveva fatto scendere il suo figlio per farlo respirare in mezzo alla strada. Qualcuno vi ha aiutato, vi ha dato una mano? Tutti? Tutti. Tutti. Tutto il tempo che io ho fatto avanti e indietro per gli ospedali, ho sentito tanta... Non so, mi sentivo proprio... Che non mi sentivano, che non mi vedevano, quello che dicono. Che non vedevano lui che non respira. Quel giorno, invece, tutte le persone sembravano che erano là per lui e per me. C'è una dottoressa che correva con questa borsetta, immancia la macchina, che è arrivata subito e hanno cominciato a fare il massaggio cardiaco. Non so se sono passati cinque minuti, c'erano i vigili, tutte le persone ferme. L'ambulanza ci ha messo pochissimo. Io adesso non mi ricordo. proprio al tempo preciso. Però so che hanno ordinato, coordinato tutti i vigili e quindi, anzi, devo ringraziare il... Un vigile che è andato in procura poi a fare una denuncia. Sì, Maurizio Zulli è il vigile, ma proprio tutta la squadra loro, il gruppo pronto intervento traffico... Ioanna, a un certo punto, suo figlio non ce la fa. Muore tra le sue braccia. Che cosa è il risultato dalla perizia disposta dalla Procura della Repubblica? Lei lo sa? Certo. È il risultato che lui aveva un linfoma linfoblassico a cellula T mediastinico, che vuol dire una massa da un chilo e tre tra cuore e polmone, che alla fine gli ha avvolto proprio il cuore. Una massa tumorale di un chilo e tre? Un chilo e tre che non si sentiva con il stetoscopio. Tra cuore e polmone. La cosa incredibile è che nessuno dei medici lo aveva visitato e tantomeno aveva sospettato che ci fosse questa massa. La cosa incredibile di questa storia, amici che ci seguite da casa, è che nessun medico si è preso la briga di fare un esame, una radiografia per vedere che cosa aveva questo bambino. Tutti si sono basati su una sorta di indagine sommaria, superficiale. Alcuni di questi medici ora sono indagati per omicidio colposo. Cosa hanno detto a loro di scolpa, Ioana? Che hanno seguito il protocollo. Che loro hanno seguito il protocollo ogni volta. Quindi se io lo portavo altre dieci volte, loro dovevano seguire il protocollo. L'ultima volta lui è arrivato in ambulanza, dove è proprio svenuto in poliambulatorio del bambino Gesù e dove la dottoressa del poliambulatorio mi ha assicurata che andando in pronto soccorso saranno fatti accertamenti. Arriva da lì, mi hanno detto la crisi, è passata signora, può andare a casa. Come è passato questi quattro anni, Ioana? Con la speranza, non so, penso che è lui che mi aiuta ad andare avanti. Non trovo altre spiegazioni. Io penso che non si dovrebbe sopravvivere alla morte di un figlio. Però non c'è una scelta, sa. Quando tu ti trovi che stai in questa condizione, devi andare avanti per lui, per chi rimane. Perché non hai scelta. Non hai scelta. Noi pensiamo che nessun bambino debba morire così, tantomeno come è morto il povero Antonio. Un bambino che la mamma aveva portato per tante volte in ospedale e che è morto per una massa tumorale che nessuno aveva individuato, che nessuno aveva visitato. Speriamo che su questa vicenda si faccia chiarezza, si faccia luce. E che questa mamma, prima o poi, possa trovare un po' di conforto. La ringrazio.